Adesso io devo fare 5 minuti Ma è P3 plant Ehi! Sembra quello loro Ci sono tutti fuggiti Il P3 plant è quando muore Il dolore è quando muore Ah, sì Vedi che ho fatto No, non mi senti che 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 Ma come è tornata? Non è tornata Quale era la cabora del passato Mi hanno lasciato Mi hanno fatto incastrata nel tutto Ma come è tornata in giro? ma poi gli eruditi, sto capando indietro del tetto e lei gli sembra più buoni, più buoncana e si è alleato con la capola, quindi è la capola del passato, perché c'è la capola? No, ho servito ancora un po' di scoglie, no scusami, 90, dai, no ma non c'è la scoglie, ma non c'è nulla da vedere, 50, 52, no mi ha chiesto perché ha dedica tutto la capola, in realtà non mi ha chiesto, perché il 24, scusami, stai spiegando, 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 st 5 6 7 68 Se vengono per provare la moto? Uè, uè! Devi finire, eh! 2, 2, 3, 4. 4, 5, 5. Le tue, 7, di campi. 7, 8. 7, 9, 8. 8, 8, 9, 9. Dai Aden, qui, uno, su spalla, ok, perfetto, tutto è così, 24, dai, 86, un minuto, forza. Ok, il tipo legato è quello che fa, legato, guarda, 95, dai, 30 secondi, 95, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 106.